Emergono in quasi tutte le regioni del paese irregolarità sul recapito della posta, cosa che ha portato il vertice di poste italiane a mettere sotto la lente di ingrandimento il lavoro di un migliaio di dipendenti, molti anche dirigenti, e quanto emerge dall'audit interno che l'azienda sotto la guida di Francesco Caio ha promosso da giugno 2014 per appurare la correttezza delle attività ed eventuali responsabilità. L'amministratore delegato di poste italiane ne ha parlato a Venezia a margine della firma del protocollo con il Comune e Venice per l'avvio del sistema pubblico di identità digitale. La magistratura, ha detto Caio, sta facendo la sua inchiesta, noi siamo un'azienda nazionale e la nostra indagine ovviamente riguarda tutto il territorio. Quanto si sta delineando, aggiunto, si inserisce in un piano di cambiamento e trasformazione che noi abbiamo avvalorato già dalla fine del 2014 che prevedeva e prevede un fortissimo orientamento al cliente cittadino in tutti i suoi processi, a partire da quello del recapito della posta.